allora buongiorno a tutti siamo a venezia ve ne faccio vedere un pezzo adesso si va al lavoro siamo in un appartamento finiamo questo settimo capitolo e mi sa che poi ci rivediamo a napoli questo settimana si gira siamo arrivati alla a un punto all'apice della all'apice del supplizio di stevenson da parte di adam gamile sono lento nel parlare perché non solo devo tenere basso il tono perché c'è mirco di là ma ancora devo carburare con stevenson ancora agonizzante adam gamile totalmente lordo del sangue della sua vittima nell'interezza del suo bel vestito si dirigeva verso l'uscita si affacciò sulla piazzetta illuminata dall'alba le lampanine nella notte erano ancora accese tra i ciottoli lungo il vialetto attiguo tra un padiglione e l'altro vi era un abbeveratorio abbeveratoio con un rubinetto dove avrebbe potuto ripulirsi le mani insozzate dal sangue del professore anche il suo volto era pieno di schizzi rossi una bella sciacquata avrebbe tolto il più ma non tutto la doccia lo avrebbe atteso forse in tarda mattinata sentite bagnava il volto a piene mani intenzionato a togliere il più possibile intento a rinfrescarsi ebbe improvvisamente un presentimento tanto da interrompere distinto ogni gesto presenti una presenza fugace alle sue spalle si voltò di scatto con il ruente foga come a voler cogliere di sorpresa l'arcana figura ma non vi era nessuno gli uomini a guardia del perimetro apparivano totalmente ignari di qualunque intrusione e con passo lento percorrevano i limiti della struttura senza alcuna allerta eppure egli sapeva di cosa si trattava di chi si trattasse non vi è nulla qui di ciò che cerchi urlò con rabbia verso il niente si tieniti pure in disparte verrà il giorno in cui sarai costretto a fare parte del gioco e quando arriverà rimpiangerà di non esserti mosso prima i nostri interessi possono accordarsi quindi c'è una figura misteriosa che ancora non è apparsa che li li scruta da lontano o apparentemente da vicino ma senza farsi vedere e gamliel sa chi è le urla tese in direzione dell'ombra preavvertita non produssero alcuna reazione non vi era nulla di fronte a lui solo silenzioso orizzonte poteva essere stata una suggestione no sapeva chi lo stava tenendo d'occhio e si riprometteva che prima o poi avrebbe interrotto quell'altezzoso comportamento una guardia allarmata dalla veemenza del vociare di gamliel gli si avvicinò ma egli le fece le fece cenno di ritornare al suo posto si strofinò le radici ripulendole dall'umido che colando lo infastidiva il maggior dono stava arrivando per finire il lavoro doveva tornare alla svelta presentabile con questo chiudiamo il settimo capitolo con uno stevenson agonizzante con un adam gamliel deciso a farlo soffrire il più possibile e questa arcana figura che si mostra per la prima volta incontri ancora non sappiamo chi è quello che mi fa mi fa venire in mente questa parte del romanzo è che in realtà tutti abbiamo un grosso punto interrogativo sul nostro destino cos'è che ci dà certezza del futuro perché riusciamo ad avere a che fare con questo mistero beh che c'è un'esperienza nel presente che ci rende certi della positività del destino mi ricordo quando la prima volta iniziai a cambiare quando inizia a cambiare quando per colpa mia perché non sapevo gestire i soldi quando mi trasferì a milano ci fu un periodo che soffri veramente la fame allora con quella ferita aperta con quella ferita che bruciava decisi che non poteva essere non potevo essere più l'idiota di un tempo dovevo fare qualcosa cosa mi ha dato speranza aver avuto una realtà positiva aver avuto degli amici che mi hanno aiutato a ripartire quindi non è affatto banale cosa ci permette di avere a che fare col mistero col mistero del destino che misteriosamente è come se si facesse presente adesso ci prendesse per mano e ci conducesse verso il compimento di quel nostro desiderio di felicità che urge a fame tutti i giorni nel presente perché se la felicità fosse solo alla fine diciamo il tempo che stiamo vivendo adesso sarebbe veramente inutile mentre il fatto che ci sia un'esperienza presente di pienezza di intensa possibilità di vissuto di bontà di verità come come è la mia famiglia come sono i miei amici che hanno tutti quella stessa origine quel mistero che dice cioè vi ho fatti vi ho fatti per me non solo vi ho fatti come me ma vi ho fatti per me cioè vi ho fatti per la pienezza per la felicità per il compimento di quel desiderio che vi ho messo dentro non è affatto banale questa cosa Stevenson lo sta capendo speriamo che anche Adam Gamliel lo capisca chissà è un mistero con questo ci salutiamo e speriamo di vederci domani non lo so mi sembra un po' difficile perché adesso in giornata si ritorna in patria e domani ci sarà il delirio della dad poi però si parte per Napoli e quindi può essere che in albergo si riesce a fare una lettura per intanto vi saluto e vi auguro una buona giornata e un buon lavoro